Di Giovanni Verga, il Reverendo, voce di Lorenzo Pieri. Di Reverendo non aveva più né la barba lunga né lo scapolare di zoccolante, ora che si faceva radere ogni domenica e andava spasso con la sua bella sottana di panno fine e il tabarro con le rivolte di seta sul braccio, allorché guardava i suoi campi e le sue vigne e i suoi armenti e i suoi bifolchi con le mani in tasca e la pipetta in bocca, se si fosse rammentato del tempo in cui lavava le scodelle ai cappuccini e che gli avevano messo il saio per carità, si sarebbe fatta la croce con la mano sinistra. Ma se non gli avessero insegnato a dir messa e a leggere e a scrivere per carità, non sarebbe riescito a ficcarsi nelle primarie casate del paese né ad inchiodare nei suoi bilanci il nome di tutti quei mezzadri che lavoravano e pregavano Dio e la buona nata per lui e bestemmiavano poi come turchi al far dei conti. Guarda ciò che sono e non da chi son nato, dice il proverbio. Da chi era nato lui tutti lo sapevano, che sua madre gli scopava tuttora la casa. Il reverendo non aveva la boria di famiglia, no, e quando andava a fare il 3-7 dalla baronessa, si faceva aspettare in anticamera dal fratello, con l'anternone in mano. Nel far del bene cominciava dai suoi, come Dio stesso comanda, e si era tolta in casa una nipote, belloccia, ma senza camicia, che non avrebbe trovato uno straccio di marito, e la manteneva lui, anzi l'aveva messa nella bella stanza coi vetri alla finestra e il letto a cortinaggio, e non la teneva per lavorare o per sciuparsi le mani in alcun ufficio grossolano. Tal che parve a tutti un vero castigo di Dio, allorquando la poveraccia fu presa dagli scrupoli, come accade alle donne che non hanno altro da fare e passano i giorni in chiesa a picchiarsi il petto per il peccato mortale, ma non quando c'era lo zio, che non era di quei preti i quali amano farsi vedere in pompa magna sull'altare dall'innamorata. Le donne, fuori di casa, gli bastava carezzarle con due dita sulla guancia, paternamente, o dallo sportellino del confessionario, dopo che si erano risciacquata la coscienza e avevano vuotato il sacco dei peccati propri ed altrui, che qualche cosa di utile ci si apprendeva sempre per dar la benedizione, uno che speculasse sugli affari di campagna. Benedetto Dio, egli non pretendeva di essere un santuomo, no. I santuomini morivano di fame, come il vicario, il quale celebrava anche quando non gli pagavano la messa, e andava attorno per le case dei pezzenti con una sottana lacera che era uno scandalo per la religione. Il reverendo voleva portarsi avanti, e ci si portava col vento in poppa. Da principio, un po' a sghembo per quella benedetta tonaca che gli dava noia, tanto che per buttarla nell'orto del convento, aveva fatta causa al tribunale della monarchia, e i confratelli l'avevano aiutato a vincerla per levarselo di torno, perché sin quando ci fu lui in convento, volavano le panche e le scodelle in refettorio ad ogni elezione di provinciale. Il padre Battistino, un servo di Dio robusto come un mulattiere, l'avevano mezzo accoppato, e padre Gianmaria, il guardiano, ci aveva rimesso tutta la dentatura. Il reverendo, lui, stava chiotto in cella dopo di aver attizzato il fuoco, e in tal modo era arrivato ad essere reverendo con tutti i denti che gli servivano bene. E al padre Gianmaria, che era stato lui a ficcarsi quello scorpione nella manica, ognuno diceva, ben gli sta. Ma il padre Gianmaria, buon uomo, rispondeva, masticandosi le labbra con le gengive nude, che volete, costui non era fatto per cappuccino, è come papasisto, che da porcaio arrivò ad essere quello che fu, non avete visto ciò che prometteva da ragazzo? Per questo padre Gianmaria era rimasto semplice guardiano dei cappuccini, senza camicia e senza un soldo in tasca, a confessare per l'amor di Dio e cuocere la minestra per i poveri. Il reverendo, da ragazzo, come vedeva suo fratello, quello del lanternone, rompersi la schiena a zappare, e le sorelle che non trovavano marito neanche a regalarle, e la mamma, la quale filava al buio per risparmiare l'olio della lucerna, aveva detto, io voglio essere prete. Avevano venduto la mula e il campicello per mandarlo a scuola, nella speranza che se giungevano ad avere il prete in casa ci avevano meglio della chiusa e della mula, ma ci voleva altro per mantenerlo al seminario. Allora il ragazzo si mise a ronzare attorno al convento perché lo pigliassero novizio, e un giorno che si aspettava il provinciale e c'era da fare in cucina, lo accolsero per dare una mano. Padre Gianmaria, il quale aveva il cuore buono, gli disse, ti piace lo Stato e tu stacci. E fra Carmelo, il portinaio, nelle lunghe ore d'ozio che s'annoiava, seduto sul muricciuolo del chiostro a sbattere i sandali l'un contro l'altro, gli mise insieme un po' di scapolare coi pezzi di saio buttati sul fico a spauracchio delle passere. La mamma, il fratello e la sorella protestavano che se entrava frate era finita per loro e ci rimettevano i denari della scuola perché non gli avrebbero cavato più un baiocco. Ma lui, che era frate nel sangue, si stringeva le spalle e rispondeva, sta a vedere che uno non può seguire la vocazione a cui Dio l'ha chiamato. Il padre Gianmaria l'aveva preso a ben volere perché era lesto come un gatto in cucina e in tutti gli uffici vili, persino nel servir la messa, quasi non avesse fatto mai altro in vita sua, con gli occhi bassi e le labbra cucite come un serafino. Ora che non serviva più la messa, aveva sempre quegli occhi bassi e quelle labbra cucite, quando si trattava di un affare scabroso coi signori che c'era da disputarsi all'asta le terre del comune o da giurare il vero dinnanzi al pretore. Di giuramenti nel 1854 dovete farne uno grosso davvero, sull'altare, davanti alla pisside, mentre diceva la santa messa che la gente lo accusava di spargere il colera e voleva fargli la festa. «Per quest'ostia consacrata che ho in mano», disse lui ai fedeli inginocchiati sulle calcagna. «Sono innocente, figliuoli miei, del resto vi prometto che il flagello cesserà fra una settimana, abbiate pazienza». Sì, avevano pazienza, per forza dovevano averla, poiché egli era tutt'uno col giudice e col capitano d'armi, e il re bomba gli mandava i capponi a Pasqua e a Natale per disobbligarsi, diceva sì, e gli aveva mandato anche il contraveleno, caso mai succedesse una disgrazia. Una vecchia zia, che aveva dovuto tirarsi in casa per non far mormorare il prossimo, e non era più buona che a mangiare il pane a tradimento, aveva sturato una bottiglia per un'altra e acchiappò il colera belle buono. Ma il nipote stesso, per non fare insospettir la gente, non aveva potuto amministrarle il contraveleno. «Dammi il contraveleno, dammi il contraveleno», supplicava la vecchia già nera come il carbone, senza aver riguardo al medico e dal notaio che erano lì, presenti, e si guardavano in faccia imbarazzati. Il reverendo, con la faccia tosta, quasi non fosse fatto suo, borbottava stringendosi nelle spalle, «Non le date retta, che sta delirando». Il contraveleno, seppur ce l'aveva, il re glielo aveva mandato sotto suggello di confessione e non poteva darlo a nessuno. Il giudice, in persona, era andato a chiederglielo ginocchioni per sua moglie, che moriva, e si era sentito rispondere dal reverendo, «Comandatemi della vita, amico caro, ma per cotesto negozio proprio non posso servirvi». Questa era storia che tutti la sapevano, e siccome sapevano che a furia di intrighi e d'abilità era arrivato ad essere l'amico intrinseco del re, del giudice e del capitano d'armi, che aveva la polizia come l'intendente e i suoi rapporti arrivavano a Napoli senza passar per le mani del luogotenente, nessuno osava litigare con lui, e allorché gettava gli occhi su di un podere da vendere o su di un lotto di terre comunali che si affittavano all'asta, gli stessi pezzi grossi del paese, se s'arrischiavano a disputarglielo, lo facevano coi salamelecchi e offrendogli una presa di tabacco. Una volta col barone stesso durarono una mezza giornata a tira e molla. Il barone faceva l'amabile e il reverendo, seduto in faccia a lui col tabarro raccolto fra le gambe, ad ogni offerta d'aumento gli presentava la tabacchiera ad argento, sospirando, che volete farci, signor barone, qui è caduto l'asino e tocca a noi tirarlo su. Finché si pappò la giudicazione e il barone tirò sulla presa, verde dalla bile. Cotesto l'approvavano i villani, perché i cani grossi si fanno sempre la guerra fra di loro, se capita un osso buono, e ai poveretti non resta mai nulla da rosicare. Ma ciò che li faceva mormorare era che quel servo di Dio li smungesse peggio dell'anticristo, allorché avevano da spartire con lui, e non si faceva scrupolo di chiappare la roba del prossimo, perché gli arnesi della confessione li teneva in mano e si cascava in peccato mortale, poteva darsi la soluzione da sé. Tutto sta ad averci il prete in casa, sospiravano, e i più facoltosi si levavano il pan di bocca per mandare il figliuolo al seminario. Quando uno si dà la campagna, bisogna che ci si dia tutto, diceva il reverendo, onde scusarsi se non usava riguardi a nessuno. E la messa stessa lui non la celebrava altro che la domenica, e la messa stessa lui non la celebrava altro che la domenica, quando non c'era altro da fare, che non era di quei pretucoli che corrono dietro al tre tarì della messa. Lui non ne aveva bisogno, tanto che Monsignor Vescovo, nella visita pastorale, arrivando a casa sua e trovandogli il breviario coperto di polvere, vi scrisse su col dito Deo Grazias. Ma il reverendo aveva altro in testa che perdere il tempo a leggere il breviario, e se ne rideva del rimprovero di Monsignore. Se il breviario era coperto di polvere, i suoi buoi erano lucenti, le pecore lanute e i seminati alti come un uomo, che i suoi mezzadri almeno se ne godevano la vista, e potevano fabbricarvi su dei bei castelli in aria, prima di fare i conti col padrone. I poveretti slargavano tanto di cuore, seminati che sono una magia, il Signore ci ha passato di notte, si vede che è roba di un servo di Dio e conviene lavorare per lui che ci ha in mano la messa e la benedizione. In maggio, all'epoca in cui guardavano in cielo per scongiurare ogni nuvola che passava, sapevano che il padrone diceva la messa per la raccolta, e valeva più delle immagini dei santi e dei pani benedetti per scacciare il malocchio e la malannata. Anzi, il reverendo non voleva che spargessero i pani benedetti per il seminato, perché non servono che ad attirare i passeri e gli altri uccelli nocivi. Delle immagini sante poi ne aveva le tasche piene, giacché ne pigliava quante ne voleva in sagrestia di quelle buone, senza spendere un soldo, e le regalava ai suoi contadini. Ma alla raccolta giungeva a cavallo, insieme a suo fratello, il quale gli faceva da campiere, con lo schioppo ad armacollo, e non si muoveva più, dormiva lì nella malaria per guardare ai suoi interessi, senza badare neanche a Cristo. Quei poveri diavoli che nella bella stagione avevano dimenticato i giorni duri dell'inverno rimanevano a bocca aperta, sentendosi sciorinare la litania dei loro debiti. Tanti rotoli di fave che tua moglie è venuta a prendere al tempo della neve, tanti fasci di sarmenti consegnati al tuo figliuolo, tanti tumuli di grano anticipati per le sementi, coi frutti a tanto il mese. Fa il conto. Un conto imbrogliato. Nell'anno della carestia che lo zio Carmenio ci aveva lasciato il sudore e la salute nelle chiuse del reverendo, gli toccò di lasciarvi anche l'asino alla messe per saldare il debito, e se ne andava a mani vuote, bestemmiando delle parolacce da far tremare cielo e terra. Il reverendo, che non era lì per confessare, lasciava dire e si tirava l'asino nella stalla. Dopo che era divenuto ricco, aveva scoperto nella sua famiglia, la quale non aveva mai avuto pane da mangiare, certi diritti ad un beneficio grasso come un canonicato, e all'epoca dell'abolizione delle mani morte, aveva chiesto lo svincolo e si era pappato il podere, definitivamente. Solo gli seccava per quei denari che si dovevano pagare per lo svincolo, e dava del ladro al governo, il quale non rilascia gratis la roba dei benefici a chi tocca. Su questa storia del governo, egli aveva dovuto indiottir della bile assai, fin dal 1860, quando avevano fatto la rivoluzione, e gli era toccato nascondersi in una grotta come un topo, perché i villani, tutti quelli che avevano avuto delle questioni con lui, volevano fargli la pelle. In seguito era venuta la litania delle tasse, che non finiva più di pagare, e solo pensarci gli mutava in tossico il vino a tavola. Ora davano addosso al santo padre, e volevano spogliarlo del temporale. Ma quando il papa mandò la scomunica per tutti coloro che acquistassero beni delle mani morte, il reverendo sentì montarsi la mosca al naso, e borbottò, che c'entra il papa nella roba mia, questo non c'è a far nulla col temporale, e seguitò a dir la santa messa meglio di prima. I villani andavano ad ascoltare la sua messa, ma pensavano senza volere alle ladrerie del celebrante, e avevano delle distrazioni. Le loro donne, mentre gli confessavano i peccati, non potevano fare a meno di spifferargli sul mostaccio, padre, mi accuso di aver sparlato di voi che siete un servo di Dio, perché quest'inverno siamo rimasti senza fave e senza grano, a causa vostra. A causa mia? Che li faccio io il bel tempo, la malannata? Oppure devo possedere le terre perché voi altri ci seminiate e facciate i vostri interessi? Non ne avete coscienza né timore di Dio, perché ci venite allora a confessarvi. Questo è il diavolo che vi tenta per farvi perdere il sacramento della penitenza. Quando vi mettete a fare tutti quei figliuoli, non ci pensate che sono tante bocche che mangiano? Ve li ho fatti far io tutti quei figliuoli? Io mi son fatto prete per non averne. Però assolveva come era obbligo suo, ma non di meno nella testa di quella gente rozza, restava qualche confusione fra il prete che alzava la mano a benedire in nome di Dio e il padrone che arruffava i conti e li mandava via dal podere col sacco vuoto e la falce sotto l'ascella. Non c'è che fare, non c'è che fare, borbottavano i poveretti rassegnati. La brocca non ci vince contro il sasso e col reverendo non si può litigare perché lui sa la legge. Se la sapeva, quando erano davanti al giudice con l'avvocato, egli chiudeva la bocca a tutti col dire la legge è così e così ed era sempre come giovava a lui. Nel buon tempo passato se ne rideva dei nemici, degli invidiosi. Avevano fatto un casa del diavolo, erano andati dal vescovo, gli avevano gettato in faccia la nipote Massaro Carmenio e la roba mal acquistata. Gli avevano fatto togliere la messa e la confessione. Ebbene, e poi? Egli non aveva bisogno del vescovo né di nessuno. Egli aveva il fatto suo ed era rispettato come quelli che in paese portano la battuta. Egli era di casa della baronessa e più facevano del chiasso intorno a lui peggio era lo scandalo. I pezzi grossi non vanno toccati nemmeno dal vescovo e ci si fa di berretto per prudenza e per amor della pace. Ma dopo che era trionfata la eresia con la rivoluzione, a che gli serviva tutto ciò? I villani che imparavano a leggere e a scrivere e vi facevano il conto meglio di voi. I partiti che si disputavano il municipio e si spartivano la cuccagna senza un riguardo al mondo. Il primo pezzente che poteva ottenere il gratuito patrocinio se aveva un'acquistione con voi e vi faceva sostenere da solo le spese del giudizio. Un sacerdote non contava più né presso il giudice né presso il capitano d'armi. Adesso non poteva nemmeno fare imprigionare con una parolina se gli mancavano di rispetto e non era più buono che addirmessa e confessare come un servitore del pubblico. Il giudice aveva paura dei giornali, dell'opinione pubblica, di quel che avrebbero detto Caio e Sempronio e trinciava giudizi come Salomone. Perfino la roba che si era acquistata col sudore della fronte gliela invidiavano. Gli avevano fatto il malocchio e la jettatura. Quel po' di grazia di Dio che mangiava a tavola gli dava gran travaglio la notte, mentre suo fratello, il quale faceva una vita dura e mangiava pane e cipolla, digeriva meglio di uno struzzo e sapeva che di lì a cent'anni morto lui sarebbe stato il suo erede e si sarebbe trovato ricco senza muovere un dito. La mamma poveretta non era più buona a nulla e campava per far penare e far penare gli altri, inchiodata nel letto dalla paralisi che bisognava servir lei piuttosto. E la nipotei stessa, grassa, ben vestita, provvista di tutto, senza altro da fare che andare in chiesa, lo tormentava quando le saltava in capo di essere in peccato mortale, quasi ei fosse di quegli scomunicati che avevano spodestato il Santo Padre. Egli aveva fatto levar la messa dal vescovo. Non c'è più religione né giustizia né nulla, brontolava il reverendo come diventava vecchio. Adesso ciascuno vuol dir la sua. Chi non ha nulla vorrebbe acchiapparvi il vostro. Levati di lì che mi ci metto io. Chi non ha altro da fare viene a cercarvi le pulci in casa. I preti vorrebbero ridurli a sagrestani, dir messa e scopare la chiesa. La volontà di Dio non vogliono farla più. Ecco cos'è.